Io vengo da Torino con dei miei amici che sono venuti già qua l'anno scorso, cioè la terza volta è questa perché hanno fatto un lavoro completo, io ho fatto molto di meno ma mi sono trovata molto bene, lo dico a tutti perché è molto meglio che in Italia sotto tutti i punti di vista dell'igiene, della professionalità, il dottore Eugenio è bravissimo a fare la dettaglia e la pulizia dei denti, da prendere l'aereo apposta per venire qua a fare la pulizia dei denti. Se ci fosse il volo in giornata verremmo tutti perché me l'hanno detto anche altre persone italiane, sono trovate tutte bene e tutti quelli che ho incontrato sia sei mesi fa che oggi sono tutti contenti e felici, entusiasti. Aggiungo che quando uno arriva qui in Moldavia non è abbandonato perché ti vengono a prendere all'aeroporto, ti danno la sim card per poter telefonare senza spendere tanti soldi in Italia e ci sono delle ragazze che sono state in Italia da noi prima e quindi parlano benissimo l'italiano, ci accompagnano per tutto il tragitto che dobbiamo fare, non siamo mai abbandonati, gentilissime, bellissime, giovani anche loro, belle ragazze, tutto non siamo abbandonati, questo di sicuro.